Controlli di vicinato, la voglia, il desiderio di vedere il proprio quartiere sicuro va oltre la burocrazia. Eh già, aspettando l'ufficialità dell'avvio sul campo dei controlli di vicinato, i residenti si attivano in proprio. E così vai di chat, l'ultima si fa per dire quella dei residenti del quartiere Maddalene, gruppi Facebook che diventano un vero e proprio tam-tam su quello che non va e succede in città, creando una rete di sentinelle. Cittadini con un forte senso di civiltà che non si girano dall'altra parte ma segnalano a chi di dovere, come è successo per gli abusivi nel palazzo di Contrapasini e quando c'è chi segnala la presenza di spaccio nella propria via o avvisa dalla presenza di persone rissose. Un controllo di vicinato insomma di fatto già in essere senza tanta burocrazia. È passato sicuramente il principio del controllo di vicinato, cioè quello di avere una vigilanza da parte dei cittadini che non si sostituiscono le forze dell'ordine ma segnalano il problema. Il fai-da-te, sebbene utile, può essere però pericoloso. Per questo la sperimentazione del controllo di vicinato, intanto prevista nelle zone cosiddette calde di Vicenza, da Campomarzo, Piazzale Bologna, Viale Retenio e zone limitrofe, prevede una struttura delle regole e l'amministrazione a quanto pare ormai è in dirittura d'arrivo. Abbiamo individuato già i primi responsabili dei gruppi e nei prossimi giorni è prevista la formazione e poi entro l'autunno sicuramente la partenza del servizio sperimentale.